Restano ancora aperte tutte le ipotesi sulla morte di due settantenni di Sarzana trovati carbonizzati all'interno di un'auto in una zona appartata a Camisano. La scomparsa dei due, un uomo di 73 anni e la moglie di 77, era stata denunciata poche ore prima dal figlio che non riusciva a rintracciarli. Avrebbe detto ai carabinieri di avere un brutto presentimento. La coppia viveva infatti un momento difficile a causa di gravi problemi di salute conclamati da tempo. Ma gli investigatori al momento non escludono nulla. È stato un agricoltore a lanciare l'allarme dopo aver notato l'auto, una Fiat 500 vecchio modello, avvolta dalle fiamme in una piazzola accanto a una strada sterrata. Una zona di piena campagna tra Amelia e Lerici. All'arrivo dei vigili del fuoco la macabra scoperta all'interno i due corpi ormai irriconoscibili. I coniugi, che saranno identificati con certezza grazie all'autopsia, erano seduti al posto di guida e sul sedile del passeggero anteriore. A nulla è valso l'intervento dei vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio sarebbe scoppiato alle prime luci. Dunque l'auto ha bruciato diverse ore. Gli investigatori sono riusciti a risalire al telaio della vettura, praticamente distrutta, appartenente ai settantenni, di cui era stata denunciata la scomparsa giusto poche ore prima. Il ritrovamento è avvenuto intorno a luna di oggi pomeriggio, sul posto i carabinieri per i rilievi insieme al magistrato Monteverde e al medico legale Gamba. All'interno della vettura anche una pistola scacciacani che però non sarebbe stata utilizzata e forse anche il cane di famiglia, l'amico di una vita insieme ancora nell'ultimo viaggio.